oggi affrontiamo un argomento un po particolare perché è un argomento ovviamente di veterinaria ed è questa besnoidiosi bovina essenzialmente che molti molti diranno ma cos'è questa cosa qui perché insomma e io per quello anch'io l'avevo un po dimenticato forse non l'avevo mai imparata comunque è una malattia parassitaria di un protozo del genere besnoidia e quando alessia gazonis che ringrazio insomma di questa sua disponibilità mi ha contattato già mi ha incuriosito perché penso che sia un argomento di interesse ovviamente per gli allevatori perché sono poi loro che rappresentano il fronte delle patologie ma anche e soprattutto dei colleghi veterinari soprattutto i veterinari boiatri quindi che si occupano di bovini quindi io direi allora che vi presento io rapidamente voi vi presentate anche meglio allora che cos'è questo gruppo allora questo gruppo è costituito voi vedete alessia gazonis che è una ricercatrice del dipartimento di medicina veterinaria dell'università degli studi di milano che rappresenta il gruppo poi tu mi mi correggerai che ha coordinato questo progetto best no bit che è stato supportato da altri due atenei uno è sempre il dipartimento di medicina veterinaria dell'università di perugia e l'altro è il dipartimento di medicina veterinaria della federico secondo di napoli quindi insomma c'è ci sono tre atenei in pista contro questa questa patologia questa infestazione eccetera che altro dire quindi abbiamo alessia gazonis e giulia morganti che è ricercatrice appunto a perugia la vigna suga che è ricercatrice alla federico secondo come francesco buono io a questo punto di abitare la parola cominci te alessia si puoi cominciare a tutti buongiorno condivido schermo e così vediamo poi io poi mi permetterò di farvi qualche domanda se non ho capito alla fine certo intanto grazie per la disponibilità e per l'accoglienza su ruminanzia un'ottima occasione per noi e condivido lo schermo tanto c'è sempre il giallo della condivisione alessia non ti preoccupare eccolo si vede si comincia a vedere perfetto perfetto adesso tutto schermo arriva magari faccio così benissimo si vede perfettamente perfetto grazie appunto per l'accoglienza per il nostro progetto besnovit che appunto ha come focus la besnoiziosi bovina una malattia possiamo chiamarla negletta insomma poco conosciuta in ogni caso è una malattia riemergente soprattutto in ambito zootecnico noi siamo un gruppo di ricerca appunto che vede l'università di napoli come coordinatore ha come partner scientifici perugia e napoli quindi siamo un bel gruppo appunto il progetto si prefegge di aggiornare quella che è la situazione epidemiologica della besnoiziosi bovina nel nostro paese prendendo appunto queste tre aree di studio come aree target diciamo è un progetto finanziato nell'ambito dei prin quindi progetto finanziato dal mur nell'ambito dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale quindi abbiamo anche con un appoggio insomma istituzionale dietro vogliamo fare giusto un recap di quelle che sono le informazioni basilari che dobbiamo tenere a mente appunto quando parliamo di besnoiziosi bovina la besnoiziosi bovina è una malattia parassitaria cronica e debilitante che è in grado di compromettere non solo lo stato di salute degli animali ma anche il loro benessere è una malattia che può causare lesioni cutanee ma anche sistemiche sia nelle fasi nelle prime fasi acute quando la malattia è caratterizzata da segni clinici poco specifici con quali febbre depressione del sensorio ma anche edema e scadimento delle condizioni generali dello stato di salute dell'animale e anche nelle fasi croniche quando compaiono le caratteristiche lesioni cutanee e poi le cisti che sono patognomoniche soprattutto a livello sclerale e a livello di vestibulum vaginale è causa di infertilità o addirittura sterilità nei tori può causare calo della produzione lattea e appunto uno scadimento generale delle condizioni di salute degli animali polpiti. Nel 2010 l'EFSA dichiara la besniziosi bovina come una malattia riemergente in Europa e che dovrebbe essere sottoposta a controllo e monitoraggio sanitario. È una malattia originaria dell'Africa subsahariana ma appunto considerata endemica in Francia, Spagna e Portogallo e in espansione sia in termini geografici sia in termini di numero di casi registrati anche nel nostro paese. È una delle più importanti cause di sterilità di origine infettiva nei tori da carne soprattutto quelli che chiaramente effettuano monta naturale e le perdite economiche in questo settore sono associate a bassi tassi di fertilità e anche aumento dell'intervallo interparto. Tuttavia nonostante le importanti ricadute economiche di questa malattia sul comparto zootecnico è una malattia che tuttora oggi viene spesso trascurata sia dai veterinari e dagli allevatori sia anche dalle autorità sanitarie. Cedo ora la parola alla collega Morganti che farà un breve summit, senso un recap di quelle che sono le informazioni sulla biologia del parassita. Giulia non ti sentiamo, devi attivare l'audio. Scusate, l'avevo staccato. Nessun problema. Grazie per la parola Alessia. Io in questa parte approfondirò alcuni aspetti di natura morfobiologica di questo parassita. Darò alcune informazioni che comunque possono essere importanti per collocarlo proprio anche da un punto di vista tassonomico. La besnuizia, il genere besnuizia, rientra nella famiglia sarcoscistile, famiglia che sicuramente è molto ben conosciuta per altri protozoi di interesse edotecnico, quale Toxoplasma gondini, oscura caninum e sarcoscistis, ma anche nell'ambito del genere besnuizia rientra, cioè rientra besnuizia nei cisforming parasites. In particolar modo oggi parliamo di besnuizia besnuizia, che ha il suo ospite intermedio di elezione il bovino, ma ci sono anche altre besnuizie in cui la besnuizia ben netto colpisce l'asino, di cui abbiamo, iniziamo a avere alcuni riscontri anche in Italia e anche a livello europeo, mentre per quanto riguarda altre besnuizie sempre in ambito zootecnico come la besnuizia capri, besnuizia tarandi, sono un po' più lontane da noi, ma comunque possono colpire il comparto zootecnico non avendo casi attualmente descritti in Italia. Questo è un parassita che è un parassita che presenta tre forme biologiche, in particolar modo abbiamo i tachizoiti, che sono la forma proliferativa e invadente del parassita, i bradizoiti che sono quella forma biologica a lenta riproduzione presente nell'ospite intermedio all'interno delle cisti, proprio che caratterizza l'addizione di cis form in parasites, e poi abbiamo la forma infettante presente, diciamo, di dispersione nel terreno, che sono le ocisti sporulate e che sono prodotte, eliminate dall'ospite definitivo, che qui vediamo con un punto interrogativo accanto, adesso vedremo perché andando a parlare del ciclo biologico di besnuizia besnuizia. Questo è un ciclo biologico a due ospiti, che è molto affascinante per la comunità scientifica, perché in realtà è ancora in parte sconosciuto. Prevede come, cioè un parassita che prevede un ospite definitivo, all'interno dell'ospite definitivo avvengono le fasi sessuali del ciclo biologico, ossia la produzione e la successiva eliminazione degli ocisti, ma in realtà di besnuizia 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 non abbiamo al momento contezza di chi sia questo ospite definitivo. Per analogia di quello che è il più conosciuto toxoplasma golli, quindi il gatto, neospora caninum, il cane si pensa appunto che sia un felide o un canide selvatico. È stata ipotizzata anche la genetta, però diciamo la letteratura che abbiamo a disposizione riguardano questi felidi e canidi selvatici, ma in realtà non abbiamo al momento nessuna contezza al riguardo. Iniziamo a parlare di quello che è l'ospite intermedio di questo parassita, quello all'interno del quale avviene la fase asessuale del ciclo e quindi la formazione delle cisti tessutali e nel quale abbiamo gli aspetti clinici più importanti che è il bovino. In realtà appunto il bovino è considerato l'ospite intermedio della besnuiziosi per eccellenza, ma vogliamo comunque mandare questo input relativamente alla possibilità anche di altri ospiti intermedi perché in realtà in letteratura si riportano delle evidente relative a la besnuiziosi anche nell'asino e seppur non ci sono casi clinici nel bufalo, ma ci sono alcune segnalazioni serologiche, quindi sicuramente sarà uno di quegli ambiti da andare a indagare, da tenere in considerazione. Ma com'è che si infetta il bovino? Se da una parte sicuramente abbiamo quella possibilità di trasmissione orizzontale tramite le ocisti sporulate, ma in realtà non sappiamo quanto questa via di trasmissione impatti nel ciclo biologico, abbiamo più informazioni rispetto a altre modalità di infezioni. In primis la possibilità di contatto diretto con animali malati attraverso mucose o soluzioni di continuo cutanee. In questo sicuramente la monta naturale la fa da padrone. L'azione meccanica di sfregamento di quelle che sono le mucose con la possibilità di rottura di cisti presenti a livello mucosale è sicuramente da tenere in considerazione, è considerato uno dei fattori di rischio relativi alla trasmissione dell'obesnuiziosi bovina. Non è documentata invece la trasmissione attraverso il seme o non è documentata comunque al momento fino ad oggi la trasmissione di tipo transplacentare. Una intravia di trasmissione importante per l'obesnuiziosi è la trasmissione meccanica attraverso insetti ematofagi. Quindi fondamentalmente questi insetti ematofagi, muscidi, tabanidi, che si alimentano sull'illusione cutanee, soprattutto a livello mucosale dove possono essere presenti le cisti del parassita, questi sono in grado di acquisire il parassita e poi di trasmetterlo meccanicamente a un successivo ospite attraverso il successivo passo di sangue. A questo proposito in bibliografia abbiamo dei supporti a questo, ci sono degli esperimenti proprio di coautazione al pascolo di gruppi di animali sani con gruppi di animali malati e in un periodo in cui erano presenti questi ospiti meccanici, questi lettori meccanici e effettivamente si è avuto una infezione del gruppo sano a contatto con il gruppo malato a seguito del pascolamento insieme. La cosa importante, almeno quello che riportano gli autori, era la vicinanza tra il gruppo sano e il gruppo malato perché devono avvenire diversi pasti di sangue, numerosi morti a breve distanza per permettere questa trasmissione meccanica e questo ce lo dice il fatto che il gruppo controllo che era lontano da questo gruppo studio in realtà non ha riportato infezioni. Ancora riguardo le vie di trasmissione sicuramente la via iatrogena è annoverata tra le vie di trasmissione legata quindi all'uso promiscuo di aghi o strumenti chirurgici ma una cosa da tenere in considerazione e che sicuramente da attenzionare sono gli ospiti reservoir che possono essere ad esempio roditori o ungulati selvaggi, quello che ci riporta la bibliografia al momento e che è disponibile in bibliografia e che sicuramente sono identificati ad esempio nell'auditore la presenza di besnoizzi a besnoizzi o nelle popolazioni di ungulati selvatici in Spagna sono state riportate seppur in prevalenze molto basse sieropositività per besnoizzi a ma soprattutto abbiamo un caso clinico di besnoizzi in un giovane capriolo con quadri clinici che ricalcano molto quelli del bovino quindi sicuramente sono ospiti suscettibili da tenere in considerazione. Concludo prima di passare la parola la collega Lavinia Ciucca dandovi un input di quella che è la patogenesi di questo parassita a livello dell'ospite intermedio del bovino praticamente abbiamo i tachizoiti che sono una fase invasiva e proliferativa che invadono i celli endoteliali in prima battuta nella fase acuta dell'infezione e successivamente nelle fasi subacute poi croniche dell'infezione abbiamo l'invasione dei fibrograssi di diversi tessuti soprattutto cute, sottocute, sclera e mucose delle vie aeree con la formazione delle cisti tessutali contenenti i gradizzoiti e che sono piuttosto caratteristiche e poi adesso la collega vi introdurrà la parte prettamente clinica della vesuniziosi. Grazie. Grazie Giulia. Proverò a fare un briefing di quello che significa sintomatologia in questa malattia e come ha specificato anche la collega Alessia Gasdonis c'è una parte con sintomatologia diciamo specifica e anche a specifica per questo ci avremo anche un po' di problemi nel fare una diagnosi precoce della infezione quindi è una malattia denominata praticamente come malattia della pelle dell'elefante perché? Perché ha la sua particolarità e predominante con una caratterizzazione dermopatica cioè il suo decorso clinico del soggetto in caso nostro del bovino descrive una fase iniziale acuta febbrile e una fase secondaria cronica di pachidermia quindi praticamente come anche la collega Giulia Morganti ha evidenziato prima i tachizoiti nelle cellule endoteliale che si moltiplicano invadono nei vasi sanguini e provocano delle lesioni vascolari vasculite trombosi e poi penetrano le cellule mononucleari e così abbiamo la disseminazione nei vari tessuti praticamente dopo diciamo due dieci giorni da incubazione ci avremo l'animale con una dispnea febbre anoressia le femmine gravide possono anche abortire epifora tachicardia anche tachipnea fotofobia e anche secrezioni nasali e oculari così come si vedono in queste immagini però la maggior parte sono asintomatici dopo diciamo una settimana c'è una fase di una due settimane che dura una due settimane che è caratterizzata praticamente da una linfomenogalia generale associata con un edema sottocutaneo che praticamente prevede la testa la parte distale degli artri l'edema anche delle delle parti declivi del del corpo no la cute in questo in questa fase è calda dolorosa anche le mamelle come si sono con geste con i capezzoli di un colore rosso scuro e finalmente appaia appaiono diciamo le formazioni cisti parasitari dei noduli che prevedono si identificano nella derma nella sclera nella parte genitale esterna ma anche cisti che non li possiamo vedere nella lamina propria delle delle vie aeree cioè cavità nasale nella laringe trachea e anche dei bronchi diciamo grossi la seconda fase che praticamente dura fino a quattro settimane come dicevo inizialmente prevede le alterazioni cutanee e l'edema ventrale coinvolge le mamelle capezzoli e la parte distale degli artri c'è un progressivo ispessimento e raggrizzimento della pelle una importante allopecia e i porcheratosi fino alla diciamo sclerodermatite una sclerodermatite cronica che caratterizza la pelle di ed elefante con il spessimento marcato di più di due centimetri l'edema invece dei arti e delle articolazioni provocano un forte dolore nella fase acute nei animali con poi una conseguente relutanza al movimento quindi diventa rigido non presenta più dolore e anche una potenziale laminite per riassumere questa fase la perdita completa dei dei peli no la pelle screpolata che può provocare dei lievi traumi praticamente possono dare anche infezioni secondarie così come la miasi e qui nell'immagine nella parte destra abbiamo anche l'ispensimento della vulva dove si vedono anche dei noduli patognomonici specifici di besnoizia a besnoiti rivalutando la parte di quello che significa patognomonico per la besnoitiosi c'è anche la ipoticrosi della pelle periorbitale quindi questi cisti che noi li vediamo all'occhio nudo a livello della palbera congiuntiva e anche nella parte della della sclera rappresentano dei segni specifici per la besnoitiosi così come abbiamo detto che succede anche l'edema noi l'ipercheratosi e l'orchite nella nella parte acuta abbiamo nella forma cronica un'orchite necrotizzante praticamente sono delle formazioni di aree necrotiche calcifica all'interno della parenchima con l'atro con l'atrofia sclerosi e l'indurimento del testicolo siccome la perdita di peso è progressiva tra acuta e tra la fase acuta e cronica e deterioramento continuo delle condizioni generali praticamente gli animali tendono ad avere un fenomeno di cachiezia quindi è un è un importante diciamo valore economico perso e gli allevatori praticamente devono ehm abbattere gli animali e l'unica soluzione che hanno è la macellazione nonostante eh dobbiamo guardare anche il callo importante della produzione del latte un'altra diciamo un altro effetto importante della della besmitiosi è la ehm sterilità nei tori da riproduzione no abbiamo spiegato varie lesioni nella parte genitale del del tore quindi praticamente nella parte acuta no con l'orchita che poi è seguita da atrofia necrosi dei dei testicoli che vanno a portare la zospermia e sterilità permanente o infertilità e la causa delle lesioni endoteliali e la infiammazione che abbiamo spiegato inizialmente quindi eh quello che vi ho rappresentato insomma nella parte sinistra nelle ehm in una immagine di un striscio di materiale cellulare dal dermo dello scroto sono numerosi bradizzoiti a forma di banana che sono liberi e più giù eh sono è un quadro istologico del sottocute del scroto dove vediamo cisti sferoidali che contengono i bradizzoiti praticamente eh tutta ehm l'alterazione avviene ehm a causa della diciamo falimento alterazione della termoregola ehm regolazione e l'invasione dei tachizoiti e delle lesioni eh vascolare eh gravi lesioni della parete vascolare e i danni alla barriera emato testicolare principalmente. Cosa facciamo per per fare una diagnosi precoce corretta innanzitutto di questa di questa malattia? Cioè se bene abbiamo spiegato fino adesso nella fase acuta abbiamo dei segni ehm diciamo aspecifici quindi chiaramente nella fase acuta possiamo avere una confusione con altre malattie no? Infezione diciamo da diarrea con il virus eh bovino ehm possiamo avere diciamo una confusione con la malattia di blu tang o febbre catale maligna nella fase eh cronica sclerodermica con delle varie rogne sarcoptiche come sono qui in immagine coriottiche micosi no? Eh con questi noduli generalizzati nella dermatofitosi eh una foto una reazione di fotosensibilità con distacco dell'epitelio del del capezzolo insomma ci sono delle malattie che dobbiamo tenere conto eh per la diagnosi differenziale però la cosa diciamo più importante e magari anche un motivo per quale siamo noi oggi a parlare qui a discutere di questa malattia è anche la mancanza di conoscenza eh e la sensibilità da parte dei veterinari e dei allevatori come dicevo il motivo del del nostro incontro di far conoscere praticamente questa malattia eh qui nel video insomma è un video abbastanza recente che l'ho ricevuto due giorni fa da un allevatore un si tratta di un tore da eh basilicata potenza dove ehm non l'abbiamo esaminato clinicamente però dal video si può vedere nella zona ehm del perineo eh tutti i faldi no? Il spessimento eh della cute e anche il il danno eh dei testicoli che mh possono sembrare eh specifici nella fase cronica della besnoitiosi quindi questo diciamo può essere mh da valutare nei prossimi giorni ehm a prendere anche eh i campioni diciamo eh target per identificare questa malattia che poi magari più tardi la la collega Alessia Gazzonis vi racconterà anche cosa significa eh diagnosi e che tipo di materiale abbiamo bisogno per la conferma. Abbiamo detto che ehm la maggior parte dei casi quasi 80-90% sono asintomatici. C'è solo un piccolo numero sviluppa segni clinici perciò anche questa malattia diventa difficile da da fare la diagnosi e spesso ci abbiamo gravità variabile nei nei casi clinici rapportati. Per quanto riguarda i fattori legati all'ospite e anche al parassita di quale le mie colleghe Alessia Gazzonis e Giulia Morganti hanno parlato prima. Mh ci sono diciamo poche cose identificate con un studio background ehm eh già provato scientificamente quindi sappiamo poco del stato immunitario, dell'età, del sesso, della razza. Sono pochi eh dati che eh rilevano alcuni aspetti di questi fattori ma anche eh legati al parassita cioè il ceppo infettivo, la modalità di infezione come parlava anche Giulia Morganti anche il dose eh la dose infettiva no? Dobbiamo siamo ancora diciamo nel scuro, nel nero, dobbiamo eh dobbiamo ricercare questa malattia. Nell'infezione subclinica gli animali infettati con basse cariche parasitarie e senza segni clinici molto evidenti ovviamente c'è un rischio di trasmettere il parassita anche ad altri animali non infetti no? La particolarità eh con infezione endemica nei allevamenti è che sono pochi gli animali con segni clinici è un'alta prevalenza eh di sieropositività però sono quasi venti venti venticinque per cento di quelli sieropositivi che ehm diciamo esprimono anche eh sintomatologia sia nella forma acute sia nella forma cronica. Quindi praticamente in un'assenza in assenza di misure di controllo che la mia collega ehm diciamo specificherà più tardi ehm la sieroprevalenza può aumentare rapidamente e possiamo arrivare al fenomeno di di ehm di endemia praticamente ehm crescere, aumentare l'endemia nella parte centrale in presente nel nord e coprire le zone non endemiche che ancora nel sud insomma eh il status eh presente. Cosa diciamo dell'assino e del bufalo? Può essere bufalo diciamo simile a quello che significa sintomatologia di besnoitiosi eh bovina? Ci sono eh casi clinici riportati? Ebbene non ci sono casi clinici riportati finora però quello che abbiamo sono delle evidenze di sieropositività ehm non in Europa eh quello che noi abbiamo provato due anni fa è ricercare, scrinare ehm in piccole diciamo aziende di bufali nel sud di Campania ehm di scrinare questa questa malattia dove abbiamo ottenuto una negazione di risultati negativi. Ovviamente che il limite di questo studio è la popolazione è ridotta eh per questo motivo vogliamo continuare e allargare eh il screening generale in Italia prendendo ehm un numero più alto di ehm animali. Quello che significa nell'assino è che abbiamo una abbiamo delle lesioni praticamente simile a a quello che abbiamo nel bovino e ci sono dei casi riportati, casi clinici riportati dove il gruppo di Milano e qui presenta Alessia Gasonis ha ehm riportato diciamo due assini con condizioni precarie eh un'alopecia generalizzata ipercheratosi e anche con la forma patognomonica specifica numerosocisti epischerari tipici per la vesnoitiosi. E con questo io ho finito do la parola al a Francesco Buono per cominciare con la parte di epidemiologia di questa malattia. Grazie. 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 Grazie Lavinia. Allora la vesnoitiosi bovina è stata descritta per la prima volta in nella regione dei Pirenei Francesi nel 1884 ed è stata identificata anche come le fantiasi, come una sacca, così come in effetti già descritto in precedenza eh la collega Ciucca eh in seguito proprio alle caratteristiche cliniche che la stessa vuole assumere. Successivamente è stata riportata in altri stati, in altri paesi come per esempio ehm l'Africa e Venezuela, la Corea del Sud, Israele, Russia e in Europa assume un'elevata prevalenza. È stata riportata in differenti paesi che possiamo suddividere in zone endemiche come la Francia, la Spagna e il Portogallo e in zone non endemiche come per l'appunto l'Italia. La differenza sostanziale tra le aree endemiche e le aree non endemiche è basata sulla sieroprevalenza. Infatti nelle aree endemiche possiamo avere una sieroprevalenza elevata tuttavia la manifestazione clinica della malattia quindi casi eh riscontrabili evidenziabili clinicamente sono piuttosto bassi ehm e variano tra il 2 e il 5 per cento. Nelle aree non endemiche invece si assiste principalmente a degli outbreak di infezioni dove le prevalenze eh anche sierologiche possono essere molto elevate sino al 90 per cento e la sintomatologia clinica e l'incidenza può ehm acquisire valori anche che oscillano che variano tra il 15 e il 40 per cento stesso. In Italia il primo focolaio, il primo report di besneziosi bovina è stato eh evidenziato nel 1994 in seguito però all'importazione quindi sono dei casi di importazione di tori infetti provenienti dalla Francia. Successivamente a questi casi di importazione poi nel 2009 sono stati riscontrati invece dei focolai autoctoni eh propri quindi dell'Italia nelle regioni degli appennini settentrionali e quindi a cavallo tra la Toscana, l'Emilia Romagna e le Marche. Tant'è vero che in una realtà di eh dell'Italia che viene definita una zona non endemica si è ipotizzato probabilmente che le regioni centro settentrionali potessero avere una certa endemicità per questa patologia. Successivamente poi sono stati rinvenuti ulteriori focolai come per esempio in Lombardia, in Basilicata ed in Sicilia. Tuttavia che cosa c'è da evidenziare? Che sebbene le prevalenze intraaziendali sono eh piuttosto elevati le sieroprevalenze a livello individuali sono piuttosto basse. ehm i fattori di rischio associati a questa patologia possono essere eh riconducibili a due classi principali ossia dei fattori aziendali quindi del management aziendale e dei fattori individuali. Per quanto riguarda il management aziendale in primis gioca un ruolo chiave la movimentazione degli animali così come abbiamo precedentemente detto i primi focolai si sono avuti proprio in seguito all'importazione di tori infetti clinicamente sani e quindi questi animali clinicamente sani che sono tuttavia dei se sono tuttavia sieropositivi una volta che vengono introdotti all'interno di un allevamento si possono rendere responsabili della diffusione della malattia nel dieci per cento degli animali presenti che perderanno il loro valore commerciale nell'arco dei tre anni. Successivamente sempre nell'arco di questi tre anni la prevalenza aziendale può arrivare anche all'ottanta per cento. Abbiamo detto inoltre che la besneziosi è fortemente associata alla presenza dei vettori di insetti vettori tra cui per esempio le mosche zezzei, i tabbani, di stomoxis e quindi è stato riportato in diversi studi che la besneziosi assume un andamento anche carattere stagionale e infatti la stessa si verifica principalmente quando c'è una maggiore attività del vettore stesso. Tuttavia è da considerare un altro aspetto importante che la sopravvivenza di besnezizi nella fattispecie all'interno del vettore è piuttosto limitata, può variare da poche ore fino ad un massimo di 24 ore e per tale motivo il vettore non si rende responsabile della trasmissione negli allevamenti vicini ma è una trasmissione intraaziendale nella maggior parte dei casi. Altro fattore di rischio importante che già è stato accennato in precedenza ed evidenziato è la munta naturale. Abbiamo detto che fondamentalmente ci può essere una trasmissione attraverso dei bradizoiti presenti all'interno di queste cisti testutali che si rompono e queste cisti una volta che si rompono durante l'accoppiamento in effetti possono rendersi responsabili della trasmissione della malattia. Proprio per questo motivo è stato anche dimostrato che la tipologia di allevamento intensivo estensivo proprio per la presenza dei pascoli nonché la tipologia di destinazione d'uso degli animali può rappresentare un ulteriore fattore di rischio. Infatti gli animali soggetti da carne presentano un rischio maggiore di contrarre la malattia rispetto agli animali destinati alla produzione di semplicemente di latte molto probabilmente perché gli animali destinati alla produzione di carne condividono degli spazi più ampi vengono allevati in allevamenti estensivi e danno una maggiore possibilità di effettuare la monta naturale. Per quanto riguarda invece i fattori individuali sono principalmente l'età ed il sesso. Per quanto riguarda il sesso è stata riportata una maggiore prevalenza negli animali di sesso maschile mentre per quanto riguarda all'età che cosa è stato evidenziato? E' stato evidenziato che gli animali anziani hanno una maggiore possibilità di risultare sieropositivi. Questo è molto probabilmente associato ad una maggiore esposizione all'agente patogeno, alla malattia. Tuttavia la malattia clinica si manifesta principalmente negli animali giovani con un picco negli animali che vanno dai due ai quattro anni di vita. Fondamentalmente quindi risulta di estrema importanza la diagnosi. La diagnosi può essere effettuata sia attraverso metodi diretti sia attraverso metodi indiretti. I metodi diretti ovviamente si basano sulla diagnosi clinica quindi l'ispezione delle mucose oculo congiuntivale vaginale per esempio del musello per la messa in evidenza delle caratteristiche cisti. Dopodiché possiamo effettuare una diagnosi citologica, istologica tramite l'immunistochimica ed ovviamente degli esami in PCR. Tuttavia uno dei metodi diagnostici maggiormente diffusi è senz'altro la serologia. Quindi esistono diversi metodi serologici che possiamo applicare tra cui l'ISA, l'IFAT e il Westerblot. E sulla serologia fondamentalmente si basa anche quello che è il controllo della besneziosi. Tant'è vero che il controllo di questa malattia si basa su due aspetti chiave, due punti cardine. Il primo è evitare l'infezione nelle aziende che non risultano infette ed il secondo è il ridurre il numero degli animali infetti ed evitare invece la diffusione della malattia e quindi anche dei casi clinici. In linea di massima possiamo dire che per evitare l'infezione nelle aziende non infette è importante e se non indispensabile effettuare degli esami clinici agli animali di nuova introduzione nonché degli esami anche sierologici appunto per valutare la presenza o meno di animali asintomatici quindi che sono malati ma sono asintomatici. Evitare o limitare quanto è più possibile inoltre i fattori di rischio come la monta naturale con tori specialmente se sono quindi sieropositivi e la condivisione dei pascoli. Per quanto riguarda invece la riduzione del numero degli animali infetti ed evitare abbassare quella che è la diffusione della malattia anche in questo caso è indispensabile una diagnosi clinica e sierologica. Anche in questo caso utilizzeremo sempre dei tori sieronegativi per la monta naturale e gli animali infetti devono essere allontanati se non in effetti si dovrebbe procedere all'eutanasia così come verrà poi spiegato successivamente. La cosa importante inoltre è la tipologia di allevamento in quanto negli allevamenti di tipo intensivo l'utilizzo di repellenti quindi l'utilizzo di sostanze che vanno ad effettuare una lotta contro gli insetti è di estrema importanza proprio per contrastare quella che è l'azione vettoriale quindi la diffusione della malattia all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda il trattamento non esistono almeno in Europa farmaci utilizzabili registrati per la besneziosi bovina. Esistono dei farmaci o anche dei vaccini che tuttavia sono legati a determinate zone geografiche tant'è vero che sono presenti in Israele in Sud Africa mentre in Europa non esistono e l'utilizzo di farmaci come i suffamidici tutt'altro oppure le ossite tracicline in maniera empirica si è visto che possono andare a contrastare quella che è la sintomatologia in fase acuta quindi le fasi acuti della malattia per esempio l'ossite tracicline si è visto che somministrate ai tori vanno a ridurre quello che è il rischio nella il rischio di orchidi per cui cedo in questo adesso la parola alla collega gazzonis e grazie francesco quindi giusto per fare un recap piani di controllo si basano semplicemente appunto su una gestione di quelle che sono le misure di di biosicurezza eh da attuare in azienda ehm non non ci sono dei piani di controllo però ehm uniformi eh ufficiali eh non c'è una regolamentazione a livello né regionale né nazionale né eh a livello comunitario in Europa eh quindi nemmeno la notifica dei casi di di malattia è obbligatoria e eh questo appunto porta ad una mancanza di eh uniformità per quanto riguarda la gestione della malattia nelle diverse aziende colpite eh le uniche eccezioni sono ehm rappresentate da alcuni piani di controllo a livello regionale o nazionale come quelli che vi ho presentato nella slide ehm il piano di controllo svizzero eh che ehm considera appunto eh la besnuiziosi come una malattia da eradicare sul territorio per cui appunto gli animali clinicamente malati devono essere sottoposti ad eutanasia e tutte le eh importazioni tutti gli animali importati vengono sottoposti a test sierologici. Un piano simile è stato messo in atto eh in Belgio con appunto la ehm rigorosa tracciabilità degli animali eh importati da zone endemiche che ha consentito appunto di tenere sotto controllo eh la l'importazione di nuovi casi e la diffusione della malattia sul territorio nazionale. In Italia invece così come in altri paesi il controllo della besnuiziosi bovina è lasciata in mano alle decisioni dell'allevatore e del veterinario eh aziendale. Ehm i eh test sierologici in particolare non sono richiesti per le per la compravendita degli animali e questo può portare appunto ad una diffusione sul sul territorio nazionale eh inconsapevole eh degli eh degli animali eh magari asintomatici ma comunque sieropositivi contribuendo quindi alla eh diffusione dell'inspezione anche in altre eh in altre aziende. Una cosa che eh ci preme sottolineare e che è stato un po' l'input per avviare il progetto è che le misure di controllo che abbiamo di cui ha parlato Francesco prima che sono descritte in letteratura non sono facilmente applicabili poi in campo. Eh innanzitutto sono ehm descritte e messe a punto nelle aree endemiche quindi Francia, Spagna, Portogallo ehm che però hanno una realtà zootecnica molto diversa per certi aspetti dalla nostra. In particolare sono le piccole aziende per quello che appunto è la nostra piccola esperienza che sono più eh a rischio o che comunque più mh possono essere più in difficoltà nella gestione della dell'infezione. Ci sono i costi eh i costi che devono essere sostenuti sia per l'esecuzione dei test sierologici eh periodici sia per la riforma degli animali seropositivi che non sempre chiaramente è eh economicamente affrontabile diciamo. E spesso anche la separazione di cui parlava prima la collega Morganti di venti metri tra animale infetto e animale eh eh negativo non è sempre attuabile proprio da un punto di vista della logistica e dell'organizzazione delle delle aziende. Quindi nasce il progetto eh Best No Beat che ehm si pone come obiettivo principale è quello di cercare di stilare delle linee guida che possono essere d'aiuto per il controllo della besnuziosi bovina nella nostra realtà zootecnica italiana e che poi possono essere anche trasferiti chiaramente ad altri paesi eh in modo da poter diffondere appunto le i nostri eh traguardi che raggiungeremo col progetto. Eh il progetto ha poi una serie di sub obiettivi il primo dei quali è l'aggiornamento dei dati epidemiologici eh che eh appunto come vedevamo prima sono puntiformi insomma eh i dati epidemiologici disponibili nel nostro paese eh eh ad oggi. Il progetto si articola poi in diversi eh work package e vede appunto come eh partner le nostre eh i nostri tre dipartimenti, i nostri tre atenei. Eh vediamo come ci sia appunto in primis un l'obiettivo uno degli obiettivi principali è l'update epidemiologico ma poi abbiamo anche degli altri sub obiettivi che ora vi vi racconto rapidamente. Eh l'aggiornamento epidemiologico eh ha come obiettivo quello appunto di aggiornare i dati epidemiologici disponibili in Italia eh mediante eh la collezione ehm dei campioni ematici sui quali poi effettuare eh stiamo eh in corso insomma eh effettueremo le analisi sierologiche per l'evidenziazione degli anticorpi specifici anti besnoitza besnoiti. Eh gli animali inclusi nello studio verranno eh sottoposti a visita clinica e dati individuali e aziendali raccolti tramite questionario che abbiamo messo ad hoc per lo eh per lo studio. Eh inclusi nel campionamento sono bovini sia da latte che da carne ma anche animali simpatrici e che possono essere eh a rischio per la malattia e possono rientrare nel ciclo biologico eh del del parassita asini e bufali. In particolare per asini e bufali uno dei eh degli sub obiettivi del nostro progetto è quello di mettere a punto dei test sierologici che possono essere applicabili eh non solo appunto alla specie target che è il bovino per il quale sono disponibili già dei test commerciali ma anche appunto eh dei test sirologici facilmente applicabili anche in queste altre specie. Eh sui casi clinici stiamo effettuando la raccolta di eh materiale eh biologico da eh campioni target eh per istologia e indagini monoistochimiche e successive poi indagini eh molecolari come vedremo sempre indagini molecolari invece è in corso su ehm meso carnivori in particolare abbiamo identificato eh la volpe, il gatto selvatico e eh altri meso carnivori eh selvatici eh per capire appunto il loro ruolo nel all'interno del ciclo biologico di di Besnoizia Besnoiti. È partito eh lo studio entomologico per definire eh l'entomofauna e il ruolo delle diverse specie appunto di insetti eh ematofagi eh come vettori meccanici dell'infezione con uno studio longitudinale eh che prevede per il quale prevediamo appunto la raccolta degli insetti vettori in ehm aziende che ehm hanno casi eh di casi clinici confermati di eh Besnoiziosi in azienda che sono diventati i nostri caso studio eh identificate sia eh nel nell'area di studio a Nord Italia e Lombardia sia nell'area di studio eh in Campania Basilicata. Sugli insetti poi prevediamo di effettuare l'identificazione morfologica per capire appunto il diverso contributo eh delle diverse specie nella composizione dell'entomofauna ma anche l'analisi molecolare per la ricerca del DNA del parassita per capirne invece proprio il ruolo eh all'interno eh ruolo vettoriale eh per questo parassita. Sono previste delle analisi eh molecolari eh sia come screening appunto per la presenza del DNA parassitario in diversi campioni raccolti da eh animali infetti sia anche per caratterizzare da un punto di vista genetico i diversi isolati di Besnoizio e Besnoiti ottenuti mediante un panel di microsatelliti descritti in letteratura eh un po' per di ehm valutare la diversità genetica del parassita sul territorio italiano ma anche eh valutare eh la diversità genetica tra le diverse specie ospiti e anche la possibile associazione tra eh particolari strain o comunque alcune differenze genetiche del parassita e l'outcome eh clinico descritto poi eh nell'animale infetto. I dati ottenuti nel corso del progetto saranno analizzati con modelli statistici per individuare quelli che sono i fattori di rischio eh sia individuali che manageriali che possono essere in grado di modulare la diffusione dell'infezione. Questo ci aiuterà poi appunto a stilare queste linee guida che vogliamo ehm appunto mettere a punto avendo in testa il target che sono sia eh gli allevatori ma soprattutto i veterinari, le autorità sanitarie e anche le autorità politiche eh in modo da poter avere delle indicazioni diagnostiche e anche delle indicazioni pratiche su quelle che sono le possibili strategie di controllo da mettere in atto per quanto riguarda le misure di 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 biosicurezza da mettere appunto eh in atto in azienda ma anche la compra vendita di animali e il controllo degli insetti vettori. Eh un work package, una parte molto importante del nostro progetto è rappresentato dalla diffusione dei risultati. I dati ottenuti nel corso del progetto verranno messi a disposizione eh in primis alla comunità scientifica internazionale ma anche e forse soprattutto a quelli che sono poi gli stakeholder veri eh per quanto riguarda appunto la gestione della malattia quindi allevatori veterinari, tecnici del settore zootecnico e autorità sanitarie e politiche. Abbiamo già avviato di un'attività piuttosto intensa sui canali eh social eh Instagram e Facebook dove sono presenti una serie di materiali tra cui un'infografica sulla mesnuziosi bovina eh aggiorniamo lo stato di avanzamento del progetto. Eh abbiamo eh in programma di tenere seminari sia online e in presenza eh sia su 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 per informare insomma quello che è la la malattia e e dare insomma un un'infarinata di quelle che sono le conoscenze basi sulla sulla malattia ma anche appunto eh aggiornare lo stato di avanzamento eh delle nostre attività previste nel progetto. Le linee guida le renderemo una volta concluse ottenuti i dati eh cercheremo di eh le renderemo eh disponibili eh gratuitamente per il download su in in diverse eh modalità. Siamo quasi al giro di boa, stiamo concludendo il primo anno di progetto che è partito eh ad ottobre dello scorso anno e avrà durata biennale quindi eh stiamo eh stiamo quasi raggiungendo eh il primo anno di vita dove cosa abbiamo fatto in questo in questi primi mesi? Eh abbiamo in corso la raccolta di campioni ematici appunto dalle tre eh specie eh target bovino, bufali e asini. Abbiamo già individuato una serie di aziende infette con casi eh clinici con sintomatologia clinica evidente e sono in corso le analisi sierologiche eh molecolari e istologiche. Cerchiamo di eh restituire un risultato abbastanza immediato agli allevatori che partecipano al nostro progetto per insomma restituire un risultato quanto più velocemente possibile. È in corso lo studio entomologico, abbiamo individuato le aziende caso studio dove abbiamo posizionato eh le trappole e quindi eh in questa estate è in corso appunto la raccolta dei eh dei campioni eh degli insetti. Vedremo vedremo come cosa verrà fuori da questo da questa parte. Per quanto riguarda la diffusione dei risultati, i risultati preliminari eh ottenuti appunto nel corso di questi mesi sono stati eh presentati come comunicazioni orali al congresso nazionale della società italiana di parassitologia, congresso che si è tenuto a giugno eh a Padova. Eh abbiamo presentato eh parte dei primi risultati eh nel corso di un simposio sugli sugli api complexa eh grazie proprio ad una comunicazione su la besnoiziosi bovina e poi dei risultati preliminari di uno studio molto interessante su eh un piccolo caso studio aziendale in una scuderia di asini con eh un caso clinico di eh infezione da besnoizia, stiamo capendo eh quale specie coinvolta e quale strain eh con appunto la dinamica di diffusione dell'infezione all'interno di un gruppo eh di asini conviventi. E poi l'attività di divulgazione quindi al pubblico più più ampio grazie anche all'ospitalità di Ruminanzia che ci ha concesso un appunto un primo articolo sul nostro eh sul nostro progetto e poi appunto su sulle pagine social cerchiamo di dare delle piccole perle, delle piccole chicche con dei focus eh finalizzati a dare delle informazioni su alcuni aspetti peculiari della della besnoiziosi. e questa è una call for action per quanti eh veterinari o allevatori possono essere interessati al nostro progetto ehm appunto abbiamo in corso l'attività di campionamento di reclutamento delle aziende quindi se ehm volete partecipare al nostro progetto noi siamo a disposizione c'è la nostra mail di di progetto bestnobit.com ehm siamo siamo qui. Grazie per l'attenzione per ora. Grazie grazie a voi. Alessia si può chiudere? Ecco perfetto ci riprendiamo. Mh siete stati molto chiari una sola domanda. Quanto può essere consigliabile per un allevamento non estensivo adesso usano questo termine estensivo intensivo fare uno screening sierologico eh perché mi sembra di capire poi che le misure di di biosicurezza potrebbero proteggere molto questi allevamenti no? Perché la lotta diciamo alla agli insetti il la monta naturale che di fatto esiste poco e tutto potrebbero in qualche modo puntare all'eradicazione almeno un certo tipologia di allenamenti a patto che si faccia la sierologia. Sì la sierologia ad oggi è una delle forse è l'unica arma che abbiamo a disposizione per capire quanto è diffusa l'infezione all'interno della mandria. Una volta capito quello possiamo partire con i diversi piani di controllo perciò l'idea appunto di mettere appunto delle linee guida che siano più pratiche possibili. Spesso c'è capitato di lavorare con aziende che sono riuscite ad avere la diagnosi di besnoiziosi a distanza di troppo tempo dal primo caso sospetto diciamo. C'è capitato di arrivare anche a distanza di due anni dal primo caso sospetto e appunto in questo lasso di tempo l'infezione si eh diffonde rapidamente tra gli animali tra tra la mandria. Viceversa una ehm diagnosi più precoce possibile aiuta tantissimo nel controllo della malattia quindi nel controllo eh proprio della diffusione eh tra gli animali perché al rilevamento dei primi casi sospetti con una diagnosi più precoce possibile è possibile implementare quelle misure appunto che abbiamo visto quale l'isolamento degli animali o anche la macellazione progressiva degli animali seropositivi laddove possibile. Comunque il e poi tutte le misure di biosicurezza da mettere in atto in primis la lotta agli insetti vettori e tutte queste misure riescono eh abbiamo alcuni casi eh virtuosi diciamo in cui la malattia è tenuta sotto controllo perlomeno appunto con ehm controllo eh periodico con contesti erologici almeno anche su parte della della mandria o su eh gli animali di maggior valore economico e lotta eh costante ehm con l'attuazione delle misure di biosicurezza che abbiamo visto. E cosa può fare un veterinario libero professore a Buiatra per partecipare a questo a questo a questo a questo studio a questa diciamo auspicabile piano di prevenzione nazionale? Noi siamo a totale disposizione nel senso che arruoliamo aziende dalle tre aree geografico oggetto di studio ma siamo aperti appunto alle tre macro aree nord centro e sud con le nostre tre unità di ricerca. Eh ci può contattare ehm lasciamo la nostra mail e i nostri eh canali social sono eh aggiornati quotidianamente ehm chiediamo di includere una decina di animali eh per lo screening epidemiologico e laddove poi possiamo riscontrare dei eh casi di ehm appunto di positività possiamo anche dare una mano eh dal punto di vista eh della gestione clinica delle dell'infezione una volta riscontrata. Quindi siamo a disposizione appunto soprattutto per quei per quei casi eh sospetti in cui eh possono esserci dei dei sentori di besneziosi in azienda. Ok. Beh io vi ringrazio allora eh e ci insomma ci terremo aggiornarvi via vediamo un po' come evolve questa cosa. Grazie a lei e a Ruminanze per per l'ospitalità. Grazie a voi. Grazie.